Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn, oggi parliamo dello studio, cioè di tutte le cose che abbiamo fatto in nostra vita che ci hanno portato a studiare una lingua, un corso, qualcosa in più che serve per essere migliori. Lo dobbiamo comunicare, perché se noi evitiamo di comunicare una cosa così bella, così profonda, che ci può far fare la differenza se cerchiamo lavoro, se cerchiamo un cliente, ci stiamo autosabotando. Spesso i profili LinkedIn sono dei profili dove ci autosabotiamo, perché non mettiamo delle cose, perché non sappiamo effettivamente come compilarli. In questo caso metti tutti i corsi che sono correlati alla professione che svolgi e al servizio che tu dai a quel cliente. Bene, questo è tutto e mi raccomando, esagera sempre!